Il mio percorso olfattivo nasce dalla necessità di raccontare e di essere insecare il mio lato più creativo che essendo ingegnere sarebbe rimasto assolutamente sopito lavorando nell'arido mondo dei numeri. Le mie creazioni si dividono fondamentalmente in due Collezione 14 che rappresenta alla memoria le visioni più intime di esperienze del mio passato e Acquasala che introduce il capitolo dell'introspezione una fragranza che seppure ha un incipit culinario ha un'anima assolutamente spirituale e concettuale. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!